ascoltatori della tecnica della scuola eccoci qui con l'avvocato francesco orecchioni esperto in diritto scolastico e vicepresidente del comitato scientifico sidels società italiana diritto e legislazione scolastica con lui con l'avvocato francesco orecchioni che è un prezioso collaboratore della nostra testata della tecnica della scuola parliamo di bonus mamme come vedete nel titolo che cos'è e chi può richiederlo allora partirei avvocato intanto da dal capire che cos'è il bonus mamme partiamo intanto da qui praticamente si tratta di un esonero contributivo in pratica non si pagano i contributi i contributi vengono pagati dal datore di lavoro diciamo dal ministero e i soldi eh che il dipendente dovrebbe versare a titolo di contributi vanno direttamente in busta paga è previsto questo bonus a favore delle mamme con bambini eh con almeno due bambini eh diciamo fino a per il momento ehm che bambini piccoli però questo bonus spetta fino a quando l'ultimo di figli riesce eh raggiunge l'età dei diciott'anni bene quindi possiamo eh dire anche eh a quanto ammonta il bonus eh anche per capire un po' di che cifre eh parliamo in questo caso la legge prevede un limite massimo di tremila euro all'anno che eh diviso per mensilità ehm fanno circa duecentocinquanta euro mensili ovviamente poi si tratta di cifre lorde eh rispetto alle quali poi ci sarà una tassazione in base all'aliquota mh di riferimento. E poi arrivano le note diciamo dolenti nel senso che eh c'è un po' una polemica per quanto riguarda le eh docenti precarie eh e si parla di un'esclusione un'esclusione in questo caso motivata possiamo spiegare il perché? direi che si tratta di un'esclusione immotivata, irragionevole e discriminatoria eh perché naturalmente siamo tutti d'accordo col fatto che eh è opportuno tutelare eh le leo mamme, le mamme con i bambini piccoli, favorire un'inversione di tendenza rispetto alla denatalità che c'è che ormai da tanti anni e che fa ehm fa vedere i suoi effetti anche nella formazione delle classi perché ci sono sempre meno iscritti eh nelle scuole in Italia. Però la cosa che veramente non si riesce a comprendere sono le ragioni per cui il governo intende tutelare quelle mamme che hanno uno stipendio fisso e non tutelare anzi dimenticare completamente le mamme che precarie cioè quelle mamme che non hanno uno stipendio fisso per quale motivo queste persone che avrebbero ancora più bisogno di un aiuto vengono dimenticate dal nostro governo. È vero è vero ne abbiamo anche parlato nei nostri approfondimenti della tecnica della scuola anche proprio con eh degli articoli del nostro avvocato Francesco Orecchioni e quindi eh purtroppo questo problema rimane. Io ringrazio l'avvocato Francesco Orecchioni continuate a seguire i suoi articoli eh sul nostro portale tecnica della scuola punto it e naturalmente diamo appuntamento a presto all'avvocato. Grazie. Grazie. Grazie.